Il paese con l'esse davanti Giovannino Berdigiorno era un grande viaggiatore. Viaggia e viaggia, capitò nel paese con l'esse davanti. Ma che razza di paese è? Domandò ad un cittadino che prendeva il fresco sotto un albero. Il cittadino, per tutta risposta, cavò di tasca un temperino e lo mostrò bene aperto nel palmo della mano. Vede questo? È un temperino. Tutto sbagliato. È uno stemperino, cioè un temperino con l'esse davanti. Serve a far ricrescere le matite quando sono consumate ed è molto utile nelle scuole. Magnifico, disse Giovannino. E poi? Poi abbiamo lo staccapanni. Vorrà dire l'attaccapanni. L'attaccapanni serve a poco se non avete il cappotto da attaccarci. Con il nostro staccapanni è tutto diverso. Lì non bisogna attaccarci niente, c'è già tutto attaccato. Se avete bisogno di un cappotto andate lì e lo staccate. Chi ha bisogno di una giacca non deve mica andare a comprarla. Passa dallo staccapanni e la stacca. C'è lo staccapanni d'estate e quello d'inverno. Quello per uomo e quello per signora. E così si risparmiano anche tanti soldi. Una vera bellezza. E poi? Poi abbiamo la macchina sfotografica che invece di fare le fotografie fa le caricature. Così si ride. E poi abbiamo lo scannone. Brrrr! Che paura! Tutt'altro. Lo scannone è il contrario del cannone e serve per disfare la guerra. E come funziona? È facilissimo. Può adoperarlo anche un bambino. Se c'è la guerra suoniamo la stromba, spariamo lo scannone e la guerra è subito disfatta. Che meraviglia! Il paese con l'S davanti. Che meraviglia!